Bene, buongiorno a tutti, abbiamo capito di che cosa vogliamo parlare oggi, vogliamo parlare delle donne intorno agli ANTA. Come ha detto giustamente Marzia prima, è molto difficile oggi capire l'età di una donna per tanti motivi, un po' per gli stili di vita e un po' perché c'è una gioia maggiore nel tenersi in forma. Io ne voglio parlare con i nostri ospiti di oggi, abbiamo qui in studio Maria Luisa Barbarulo, coordinatrice blog Vediamoci Chiara, poi ne parliamo, che ha organizzato l'iniziativa di cui parleremo fra poco. Poi la dottoressa Sabrina Anna Nervi, ginecologa, buongiorno, la dottoressa Patrizia Pezzella, psicologa e sessuologa, buongiorno anche a lei, e l'unico uomo diciamo in mezzo a tante donne, il professor Antonio Lanzone, clinica ostetica e ginecologica policlinico Gemelli di Roma. Allora, sono qui tutti insieme perché sabato scorso c'è stata una bella iniziativa a Roma che si è intitolata 50 sfumature di donna. Io vi volevo leggere un pezzettino della brochure perché mi è piaciuta tantissimo, perché diceva prende forma da un necessario, questa iniziativa, e biologico desiderio di cambiamento che si genere in un'età compresa tra i 40 e i 50 anni. Sono infatti tante le seconde volte. È una visione molto positiva di un periodo della vita della donna che in genere invece viene visto sempre come, come dire, un po' depressivo, come un po' la fine di una fase. È così, dottoressa Barbarulo? Ma in realtà credo proprio di no. Noi abbiamo lanciato una survey sul nostro blog e le risposte che abbiamo avuto dalle donne in verità sono quasi tutte estremamente positive. Diciamo che la bilancia perde sicuramente dalla parte più del piacere che non del dispiacere. Certo, dipende dal modo in cui noi interpretiamo la nostra esistenza, è sempre una questione di stili di vita, però i dati mi sembrano molto molto buoni. Allora questa iniziativa, diciamo 50 sfumature di donna, è stata molto partecipata, noi poi abbiamo un filmato che vedremo dopo, però è stata molto partecipata, c'è stata una bella risposta. Sì, sì, abbiamo avuto quasi mille partecipanti tra coloro che sono venute proprio all'evento e coloro che comunque lo hanno vissuto attraverso la visione di materiali video, di comunque condivisione attraverso i social ovviamente, visto che ormai viviamo con questa logica. E di che cosa si è parlato? Si è parlato di tanti argomenti, dal punto della prevenzione come stile di vita al ricominciare cambiando prospettiva, curato dalla dottoressa Alessandra Vitelli. Abbiamo avuto la dottoressa Loredana Latorre che ci ha fatto fare degli esercizi divertentissimi sul palco, ovviamente lavorando sul pavimento pelvico. Abbiamo avuto la dottoressa Laura Bosetti Tonatto che ci ha presentato il mondo dei profumi, che anche questi sono una cosa molto importante. Ecco, quindi è una parte diciamo anche ludica. Professor Lanzone, le donne che lei vede insomma come medico hanno, diciamo di questa età, intorno agli anta, ecco diciamolo così, non parliamo di menopausa, ma non perché sia una cosa negativa, ma perché altrimenti si identifica soltanto una parte della vita della donna, di quel periodo della vita della donna. Che tipo di approccio hanno? Un approccio gioioso o depresso? Beh, innanzitutto credo che sia molto saggio quello che lei ha detto, cioè basta con dare un target come se ci sia un prima o un dopo che può cambiare radicalmente la vita di una persona e che si chiama menopausa. Noi dobbiamo concettualizzare che si tratta di un periodo, di un continuum che comincia anche qualche anno prima della menopausa e che si accompagna un po' a quelle modifiche che il filmato ha ben mostrato. Davanti a questo il commento generale da fare è che evidentemente ci deve essere un atteggiamento proattivo di qualsiasi donna nel vivere questo cambiamento come un'opportunità nuova, altrimenti se non si fa nulla si rimane in una sedentarietà che aumenta in modificazioni negative del proprio schema corporale e anche della sessualità. Ecco allora mi scusi, io la interrompo un attimo perché lei ha usato un termine che è proattivo, che cosa intende per proattivo? Proattivo significa che da una parte bisogna essere consapevoli di quello che può succedere e quindi avere un atteggiamento anche di informazione adeguata che spesso non lo è per le note ragioni del mondo dell'informazione in generale. E tra l'altro che bisogna poi assumere degli atteggiamenti consoni che vanno però guidati da professionalità sicure. Ecco questo credo che sia importante nel parlare di proattività. Senta, io alla dottoressa Sabrina Anna Nervi volevo chiedere, secondo lei i problemi delle donne in questo periodo della loro vita sono più di tipo fisico-psicologico? È inevitabile che intorno a questo periodo della vita dei problemi di tipo fisico, dei disturbi quantomeno diversi da quelli che si hanno quando si è più giovani, ci sono. Però sono di più quelli o più problemi di tipo psicologico? Diciamo che innanzitutto bisogna trasmettere il messaggio che la menopausa non è una malattia e la post-menopausa è quel che resta della nostra vita. In effetti una donna che si approccia già con un intento di una menopausa gioiosa effettivamente avrà un impatto decisamente differente. E poi non è detto che tutte le donne hanno vampate o tutte le donne ingrassano. Quindi a seconda di quella che è la struttura del nostro corpo, come l'abbiamo tenuto anche in forma, in forze e attivo fino a quel momento, certo ci sosterrà per tutto il resto della nostra esistenza. Poi ci sono degli accorgimenti che bisogna tener conto. Cioè mi scusi, è praticamente quello che abbiamo visto nel servizio di domitili da Benini che è andato in onda prima. Esattamente, e il movimento è la prima cosa da fare, il secondo e non secondo è l'alimentazione corretta. Ma per alimentazione corretta bisogna allenarsi e bisogna che stiamo allenate un po' per tutta la nostra vita e che anche alleniamo i nostri figli a mangiare bene. Si mangia bene in Italia e bisogna scegliere bene. E questo è indissolubile. Poi ci sono effettivamente delle carenze di ormoni che ci portano ad avere dei disturbi, qualcuna di più, qualcuna di meno, ma nulla che non si possa chiedere e a cui possiamo dare delle risposte serie da parte degli operatori, ovviamente, che sono più sul campo, più sul territorio, quindi che hanno più dimestichezza con questo tipo di interrogativo. Perché io ho un po' l'impressione che sulla menopausa, diciamo, sui disturbi della menopausa, ci sono molti luoghi comuni che alla fine poi influenzano negativamente le donne. Se ci si aspetta di stare male, il decadimento fisico... Cioè, uno si avvilisce e il decadimento fisico... Assolutamente concordo con questo senso. E le dirò anche di più. Più la nostra mente è allenata, impegnata, creativa, funzionale, più noi ci sentiamo impegnate. E quindi questi disturbi che vengono veramente, certo, spesso e volentieri, attraverso i mass media, enfatizzati come deleteri. Beh, in effetti non lo sono proprio del tutto. Quindi basta dare anche un'informazione, non solo di positività verbale, ma anche nella reale situazione. Se una sta meglio, dando dei consigli o dando delle informazioni o dando anche dei rimedi locali o sistemici. Certo, si può migliorare la qualità della nostra vita. Assolutamente sì. Allora, adesso abbiamo qui anche la dottoressa Pezzella, che è psicologa e sessuologa. Allora, a lei chiedo però, non è soltanto un problema della donna e basta. È un problema sia a livello culturale, di questo ne parleremo dopo, che ci crea parecchi problemi, no? I modelli che vediamo, poi ne approfondiamo. Però quanto è importante l'atteggiamento del partner in questo momento di passaggio? Certo, volevo soltanto precisare che la condizione appunto è una condizione fisiologica e che ce ne occupiamo della menopausa perché la donna vive in menopausa 30 anni, 40 anni della sua vita. Perché se immediatamente la menopausa insorge intorno ai 50 anni, e qui il professore può dare conferma, certamente con l'aspettativa della vita della donna, è naturale che la donna trascorre 3-4 decenni della gente a menopausa. Certo, quindi è tanto tempo. Quindi l'approccio positivo è sicuramente quello che va perseguito. Ed è naturale che questi cambiamenti poi incidono anche sulle persone accanto alla donna, il partner in primis, ma tutto l'ambiente. Quindi è naturale che questi cambiamenti vanno conosciuti, quindi la donna deve anche parlarne, deve parlarne al partner. È importante che con il partner si vada anche dal ginecologo, in maniera tale che quello stesso partner, compagno di vita e probabilmente anche padre di figli, così come ha accompagnato la donna nell'ecografia, rispetto alla gravidanza, al parto è anche giusto che si avvicini alla donna in questa fase di transizione. E quali sono gli errori però che deve evitare? Che deve evitare la donna? Il partner? Eh, che deve evitare il partner. Cioè diamo qualche consiglio pure a loro? Eh, certo, certo. Sicuramente di non sentirsi rifiutato, prima si parlava della sessualità, allora per esempio di non sentirsi rifiutato, perché effettivamente con questa carenza degli estrogeni si possono creare delle situazioni di difficoltà, anche nei rapporti intimi, se possiamo usare questa espressione. E quindi questi cambiamenti, talvolta proprio perché sottovalutati dalla donna e spesso ignorati completamente dall'uomo, fanno sì che il desiderio sessuale può ridursi, e di conseguenza questi rapporti possono risultare anche fastidiosi. Certo, quindi insomma essendoci un calo di desiderio sostanzialmente l'uomo si sente, diciamo, rifiutato. A lei, professor Lanzone, le capita mai che vengano le donne con il loro partner da lei oppure non capita mai? Menopausa è pochissimo. Sì, eh? Diciamo che... Vabbè, certo, quando aspettano un figlio... Ecco, il dato nuovo dagli ultimi dieci anni è che il marito accompagna la moglie o il partner, insomma, in gravidanza, ma già la seconda gravidanza li vedo meno presenti, diciamo, in meno cose veramente raro, molto raro, quasi inesistente direi. Ma le donne ne sentirebbero la necessità secondo lei? Diciamo, insomma, lei è di grande esperienza, quindi forse riesce a darci qualche indicazione su questo. Ma ci sono comportamenti anche qui differenziati, coppie molto molto unite, lì vanno insieme, ma debbano essere coppie molto molto unite, molto condivisive. Altrimenti la donna spesso è sola e qui non è semplice approcciare con una certa leggerezza situazioni come quelle che ha descritto l'ottorezza Pezzella da prima. Certo, certo. Quindi in realtà anche il ginecologo deve essere un po' allenato a fare un percorso che alla fine arrivi al dunque di alcune problematiche che sono intime, che fatalmente la signora non sembra, a meno che non sia il suo ginecologo da 30 anni. Ebbè, certo, è difficile che riesca. Allora, noi abbiamo un filmato che è stato realizzato appunto sabato scorso durante questo evento, insomma, questo 50 sfumature di donna. Allora, in questo filmato noi dovremmo vedere delle cose molto carine, molto interessanti, perché non so se riusciamo a vederlo insieme. Eccoci, ecco qua. Allora, qui abbiamo, va bene, qualcuno che parla, vedo, semplicemente, ecco, se ci illustra. La dottoressa Loretana alla Torre, sì. La dottoressa Loretana alla Torre, che... Ecco, e qui vediamo tutte le donne che erano presenti, no? Sì, sì, assolutamente. Oh, qui che cosa stanno facendo? Perché ho messo questo pezzettino. Allora, stanno interpretando una vescica, un utoro e un retto, e si parla di prolasso, e quindi serve per spiegare come accade un prolasso. Questo invece è un momento per mettere in comunicazione l'emisfero destro con l'emisfero sinistro del cervello. E a che serve questo? Questo serve per rilassarsi. Ecco, quindi è rilassamento quello, quindi diamo qualche indicazione anche interessante. No, questo però è interessante, questo del rilassamento. Ce lo fa rivedere un attimo come si fa? Perché ha fatto vedere, ecco, sì, sì, poi poi ecco, ferma lì così, ci fa vedere come si fa con le mani. Si incrocia davanti e dietro le gambe, ecco, e poi si incrociano le mani in modo tale da mettersi in questa posizione. Ok, e questo mette in collegamento l'emisfero destro e sinistra, e quindi può essere di rilassamento. Di rilassamento, sembra una posizione strana, ma poi dopo un po' che ci si sta, effettivamente ci si sente meglio. In piedi, va benissimo. Allora, io avrei continuato a parlare per ore, perché queste sono cose interessantissime. Purtroppo però devo dare di nuovo la parola a Marzia, no? Purtroppo, insomma, è finito il nostro tempo. Io ringrazio tutti voi e do la parola a Marzia Roncacci. Sì, Laura, sempre molto interessanti gli argomenti, specialmente quello di oggi dove appunto abbiamo parlato di come una donna, no? Purtroppo.